Amici, notizia strepitosa! Sono aperte le iscrizioni per partecipare al concorso Canoro 27esimo Festival Voci d'Oro 50 anni ed intorni 20-24. Sei un cantante, cantautore o una band? Iscriviti subito online dal sito maristar slash festival voci d'oro. Se verrai selezionato, a luglio vivrai un'esperienza artistica indimenticabile nelle bellissime terme Tettuccio di Montecatini, patrimonio dell'UNESCO. Ricchi premi discografici, incontri con personaggi del panorama musicale italiano e trasmissione televisiva nazionale. Inoltre presentazione a Rai, Mediaset e al Festival di San Re. Iscriviti subito online dal sito www.maristar.it slash festival voci d'oro. Il protagonista potrai essere proprio tu. Iscriviti subito online dal sito www.maristar.it 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 Iscriviti subito online dal sito www.maristar.it